Si è svolta nel seminario Arcivescovile Diocesano Don Pasquale Uva di Bisceglie la cerimonia di conferimento dell'edizione 2022 del premio internazionale Lucrezia Borgia. L'alto riconoscimento del prestigioso premio è stato assegnato a luminare professor Angelo Vescovi. Un ponte ideale nel segno della cultura e della scienza lega filo doppio le città di Bisceglie e Ferrara nel nome della duchessa Lucrezia Borgia. Il premio internazionale si ispira proprio al mecenatismo di Lucrezia, quella capacità da trarre nel suo nobile entourage artisti, scienziati e letterati e di creare a corte un clima di fervore intellettuale unico, fonte di prestigio per il casato. L'evento ideato e organizzato dall'Associazione Culturale Osservatorio Nazionale duchessa Lucrezia Borgia di Bisceglie è rappresentata dal presidente Antonio Speranza, si rinnova ogni anno, assumendo sempre più importanza. Il prestigioso premio, nelle scorse edizioni, è stato assegnato a personalità che, con la loro professione e l'impegno sociale, hanno raggiunto traguardi significativi in ambito culturale e scientifico. Quest'anno l'alto riconoscimento premio internazionale duchessa Lucrezia Borgia, per meriti scientifici, è stato assegnato al professore Angelo Vescovi, biologo e farmacologo italiano. Io sono onorato anche perché, ripeto, non sono un piaggiatore. Io vengo dalla Lombardia, però poi ho vissuto tantissimo in Canada, il mio cuore è ancora sulle montagne rocciose, per quanto io adoro il mare. Poi sono venuto in Puglia e ho visto una regione che è assolutamente incredibile, a parte che è lunghissima come era, presenta diversi territori, ma c'è una cultura, un ambiente assolutamente incredibile. Questa è una regione che veramente potrebbe diventare, non voglio dire la prima, ma una delle prime regioni d'Italia. Lo scienziato è infatti il responsabile unico della prima sperimentazione mondiale con cellule staminali celebrali umane, scevre da problematiche etiche in pazienti affetti da SLA, ed ha contribuito in maniera decisiva alla scoperta delle cellule staminali celebrali nel cervello adulto. Purtroppo si tratta di una malattia che non è una malattia, probabilmente si tratta di tantissime malattie. Già compaiono famiglie di geni, non più un unico genico coinvolto. Resta comunque, nella stragrande maggioranza dei casi, una malattia che non ha una base genetica, probabilmente radici multiformi, diverse, multifattoriali. Quindi diversi studi in diversi settori sono utili. Il problema è che resta ancora oggi una malattia inattaccabile. Bisogna dare speranze solide, bisogna anche essere molto conservativi. Sicuramente le posso dire una cosa, se vent'anni fa qualcuno avesse detto produrrete fuori dall'organismo delle cellule cerebrali e poi le trapianterete nel cervello, nel midollo spinale, che è un'area difficilissima da toccare, dei pazienti, e si comincia ad intravedere qualche risultato, l'avrei detto, magari. Oggi siamo ben oltre quel magari.